Con questo ciclo di incontri sulla disgrafia, intendo mettere a disposizione dei colleghi le modalità didattiche acquisite in tanti anni di insegnamento. Queste esperienze sono state validate nel tempo, pubblicate e diffuse attraverso corsi in presenza e online. Scopo del presente corso è quello di ampliare la diffusione e la conoscenza di queste pratiche nella scuola. Vorrei precisare che le proposte che verranno suggerite non intendono stravolgere il lavoro didattico quotidiano, ma semmai integrarlo. Questi suggerimenti pratici non necessitano dell'acquisto di materiali costosi o di applicazioni specifiche, bensì di strumenti facilmente reperibili oppure già esistenti in classe. Affronteremo dunque il problema della disgrafia, rimandando ad altri eventuali incontri quello della disortografia e della dislessia. Nei quattro incontri affronteremo gli aspetti ideomotori, gli aspetti ritmici spazio-temporali e le intuizioni matematiche presenti nella scrittura in stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo. Ciascun aspetto sarà discusso e approfondito attraverso il confronto con elaborati in cui la scrittura appare faticosa. A seguire saranno suggeriti interventi didattici mirati. Di volta in volta, al termine di ogni lezione, chi vorrà potrà validare questi suggerimenti. Nell'incontro successivo sarà ritagliato uno spazio per la discussione del materiale pervenuto. E ora auguro a tutti noi buon lavoro!